Fratelli e sorelle del Signore, questa sera voglio parlarvi di alcune cose che riguardano l'accusa che qualcuno ci muove, l'accusa che ci muovono di essere settari. Ci sono delle cose su cui bisogna riflettere, perché questa accusa è un'accusa malvagia che ha l'obiettivo, lo scopo di dividere i fratelli, di allontanarli da qualcuno che gli sta predicando la verità. Come tutte le calunnie, tutte le accuse portano comunque a fare del male a coloro che le ascoltano, a coloro che danno retta alle calunnie, vengono menomati, vengono spiritualmente colpiti e subiscono dei danni. Perché poi mentalmente continui a pensarci, ah mi accusano di essere settario, chissà se lo sono, ecco nel momento in cui chi ti accusa di essere settario riesce a metterti nel dubbio, è già riuscito. L'obiettivo lo ha già raggiunto, perché vuol dire che non eri sicuro di quello che stavi facendo e che stavi dicendo. Non eri sicuro delle persone con cui condividevi la tua comunione fraterna e la comunione con il Signore. Perché noi siamo un gruppo, come ci sono tanti altri gruppi cristiani, le comunità, sono comunque dei piccoli gruppi che dovrebbero essere in perfetta comunione tra di loro e riconoscono magari dei fratelli in mezzo a loro che hanno dei doni come quello dell'insegnamento, dell'esortazione e anche nel dare consigli e prendere determinate decisioni che possono anche riguardare tutto il gruppo. Ecco, avviene questo nei piccoli gruppi, ma quelli che vogliono, naturalmente è il maligno, che vuole spaccare, portare divisione, vuole spaccare la comunione, i pari consentimento che c'è nei vari gruppi cristiani, ecco che muove, quelli che vogliono spaccare questa comunione muovono delle accuse, muovono molte volte delle calunnie, perché se l'accusa che viene mossa è verace, allora bisogna agire in maniera da risolvere il problema, perché se un'accusa è verace bisogna affrontarla e risolverla. Se invece un'accusa è falsa, qui siamo in presenza di una calunnia, cioè di un attacco del maligno che tende a fare del male, a distruggere determinate persone o tutto il gruppo. Una di queste accuse che oggi voglio affrontare, che tra quelle più temute, tra quelle che fanno più male quando le senti, è quella di essere accusati di essere settari, però quando è che questa accusa ti può fare del male? Quando non sei pienamente convinto, quando non sei sicuro, prima di tutto non sei sicuro della verità che c'è scritta nella parola, e poi non sei sicuro neanche, cioè non hai fiducia, non sei sicuro dei fratelli con cui stai condividendo il tuo cammino nel Signore. E quindi queste, purtroppo, queste calunnie, questa calunnia, l'accusa di accusare un gruppo di essere settario, di seguire un uomo e non Gesù Cristo, possono portare conseguenze laddove mancano queste cose. Cioè tu non sei convinto dei fratelli, non sei neanche convinto della sana dottrina. Se non sei convinto, lì purtroppo non ci si può fare nulla, cioè non è tanto l'accusa che è importante, è la tua mancanza di convinzione che è la cosa più grave. Quindi l'accusa di essere settari può trovare terreno fertile laddove non si è sicuri. Ma io sono il primo a dire, ma tu non puoi frequentare un gruppo di cui non sei sicuro, cioè non lo puoi, puoi conoscerlo, ti puoi avvicinarlo, puoi studiare, però non puoi condividere degli anni di vita con un gruppo di cui non ti fidi. Quindi se ci stai frequentando, stai frequentando un gruppo per anni, e poi dopo ti accusano di essere settario perché fai parte di quel gruppo e poi tu te ne esci dopo anni. Ecco, è una mossa insensata, non tanto quella che te ne sei uscito perché hai fatto bene, se non c'è comunione te ne devi uscire, ma il fatto è che hai seguito un gruppo per anni senza capire cosa stavi facendo. E quindi questo è importante, questa è la cosa importante. Però a noi ci interessa esaminare e ragionare sull'accusa di essere settari. Ad esempio la parola setta viene utilizzata anche dal mondo, però quando la parola setta viene utilizzata dal mondo ha un significato molto cattivo, malvagio, perché si pensa a quelle persone, a quei gruppi, ci sono dei gruppi di persone dove c'è un leader, un capo umano che ha una particolare autorità su tutto il gruppo e dice a ciascuno cosa devono fare e cosa non devono fare, cosa devono mangiare e cosa non devono mangiare. Magari va a finire allo sfruttamento sessuale, allo sfruttamento monetario, sì anche quello. Poi c'è intolleranza, cioè non si può assolutamente ribattere a quello che dice questo capo e alcune volte, da quello che si legge nelle cronache dei giornali, alcune volte queste sette sono andate a finire che si sono suicidati in massa. Ci sono anche queste. Ecco perché il maligno ha operato in questa maniera. In maniera da dare forza all'accusa del settarismo. Perché quando uno accusa un altro di essere settario, taluni la prendono proprio come un pericolo imminente e grave, pensando appunto a tutti quei danni che certe sette hanno portato ai membri che ne facevano parte. Quindi la concezione del mondo ha questo modo di vedere, gli dà questo significato alla setta. Però la parola setta viene citata anche nelle Sacre Scritture e a noi particolarmente ci interessa, ci interessa dal punto di vista biblico. Dal punto di vista biblico ci interessa esaminare cosa significa la parola setta. Perché? Perché dobbiamo esaminare anche questo? Perché purtroppo questa è una delle accuse che ci muovono, a noi ci muovono o muovono comunque ai servitori di Dio, a quei gruppi di credenti che vogliono fare la volontà di Dio. Il maligno cosa fa? Manda qualcuno ad accusare certi gruppi di credenti, li accusano di essere settari. Questa accusa, qual è l'obiettivo di un'accusa di questo tipo? Di far sentire a disagio quelli che fanno parte di quel gruppo e spingerli ad uscirsene e ad andare d'altrove, magari a seguire loro anziché il gruppo che stavano seguendo. Attenzione, noi abbiamo un gruppo che ognuno è libero di uscirsene quando e come vuole, assolutamente. Talvolta, se uno non si conduce in maniera degna dell'Evangelo e oppure non crede nella sana dottrina, in cose particolarmente importanti, siamo addirittura costretti noi ad allontanarlo, ma facciamo ogni cosa in funzione di quanto è scritto e previsto nelle sacre scritture, perché gli uomini malvagi vanno tolti di mezzo dalla comunione fraterna, non è che te lo puoi tenere un fornicatore, un adultero, un eretico, un bestemmiatore, non te lo puoi tenere in mezzo al gruppo. Quindi, in quel caso, è giusto che le strade si dividano. Ma questa è una di quelle accuse che vengono mosse verso i santi. Perché? Perché è tra le accuse, e siccome la parola setta esiste anche nelle sacre scritture, quindi usano questa parola setta per accusare determinate persone che insegnano certe dottrine e spingono affinché il credente si conduca in una certa maniera. lo fanno perché? Per allontanarli, per farli sentire a disagio e per danneggiare il più possibile quel gruppo, quel movimento di credenti, quel gruppo, quella comunità, quando è una comunità. e lo usano, appunto, citando la parola setta, dandogli un significato, diciamo, il significato che gli vogliono dare, usano la parola biblica, ma gli vogliono dare il significato, quello più cattivo, quello che dà il mondo. Cioè, tu, se fai parte di una setta, stai rischiando la vita. Sì, anche biblicamente chi è settario e si divide dalla verità, si allontana dalla verità, certo, anche lui rischia la vita spiritualmente. Ma quello che vogliono intendere loro è proprio che, quello che vogliono intendere gli accusatori che usano questa parola è proprio quella che stai rischiando addirittura la vita. Tu e tutta la tua famiglia pure che fai parte se continui a far parte di quel gruppo o a contattarlo o a sentirlo. Addirittura qualcuno si permette o pensa o è convinto che anche soltanto salutandoti oppure parlando con te o pregando con te tu gli possa trasmettere tutti i demoni di questo mondo. hanno una paura, hanno paura certe persone di contattarti. Perché? Perché gli hanno messo in testa queste cose. Non solo che siamo una setta o che certi gruppi sono una setta ma anche che nel momento in cui ti avvicini a loro tu puoi ricevere tanti demoni. Prima di tutto, se uno è nella verità e ha lo spirito di Dio dentro di lui non deve temere nulla perché gli spiriti immondi gli sono sottoposti sono soggetti e quindi non deve temere nulla. Non è che dobbiamo temere noi credenti quando incontriamo un posseduto oppure cercano di lanciarci dei demoni. Noi non dobbiamo temere nulla. Quindi quelli che hanno paura di queste cose sono persone deboli sono persone spiritualmente molto deboli che veramente dovrebbero esaminare se stessi e vedere al punto a cui sono arrivati che devono veramente crescere bere del latte spirituale e cominciare veramente a crescere perché fino a quel punto non so quanti anni sono stati nel cristianesimo non so quanti anni possono dire di essere nati di nuovo ma sicuramente si hanno paura di queste cose sono veramente deboli spiritualmente e hanno bisogno del latte spirituale per crescere. Quindi questa è una delle accuse che ci muovono. Ora leggiamo qualche passaggio siccome queste accuse di essere settari viene rafforzata anche dal fatto che la parola setta è scritta nella parola c'è scritta e può assumere nei vari versetti può assumere diversi significati che ora andiamo a ragionare su alcuni passaggi andiamo a vedere con alcuni passaggi biblici cominciamo con quanto è scritto in atti degli apostoli leggeremo adesso alcuni passaggi biblici dove appare la parola setta in atti degli apostoli cominciamo al capitolo 5 al versetto 17 ora accadeva questo per capire il contesto leggiamo dal versetto 16 e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano sanati or il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui cioè la setta dei sadducei si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica cosa avveniva? avveniva che Gesù era morto era risuscitato e aveva dato la potenza dello Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo era sceso sugli apostoli questi annunziavano l'Evangelo con potenza e compivano anche segni prodigi e miracoli e molti erano guariti e molti altri erano liberati da spiriti immondi vedendo tutto questo i giudei i giudei cosa dice qui il passaggio? dice che il sommo sacerdote insieme a quelli che erano con lui e anche quelli della setta dei sadducei provavano una grande invidia e si levarono contro gli apostoli e gli misero le mani addosso e li incarcerarono vedete quindi qui viene utilizzata la parola sadducei perché? perché c'era c'era diciamo diciamo così c'era la legge c'era ciò che la legge prevedeva ciò che la legge i profetti avevano stabilito e questa legge però veniva interpretata in modi diversi quindi si erano creati dei gruppi partendo dalla legge che Dio aveva dato al popolo di Israele si erano creati dei gruppi tra cui c'era il gruppo dei sadducei questo gruppo dei sadducei si caratterizzava dal fatto che non credeva alle cose spirituali cioè non credeva alla risurrezione dei morti non credeva a una vita spirituale dopo la morte non credeva che esistessero gli angeli capite quindi in questo caso in questo caso viene chiamato appunto i sadducei questo gruppo di giudei viene chiamato setta qui è la scrittura che lo chiama e qui è Luca che scrive che è ispirato dallo Spirito Santo lo chiama setta appunto perché deviava dalla legge di Mosè e dai profeti da quanto era insegnato nella legge di Mosè e nei profeti per i giudei c'è da dire questo che dalla legge di Mosè e dai profeti anche il cristianesimo si è distanziato cioè si è differenziato quindi partendo dalla legge di Mosè e dai profeti anche il cristianesimo è diciamo una deviazione un allontanamento veniva ritenuto così però viene ritenuto così dai giudei che ci considerano come una cosa strana che è nata dal giudaismo abbiamo preso un'altra derivazione un altro indirizzo un'altra destinazione perché noi siamo comunque legati alla legge di Mosè e ai profeti cioè il cristianesimo non è che rigetta la legge di Mosè e i profeti no è che Gesù è venuto a completare a compiere in maniera completa tutta la volontà di Dio tutto tutto quello che era scritto nella parola di Dio viene portata a compimento senza rigettare nulla perché tutta la parola tutta la Bibbia è ispirata da Dio quindi il cristiano non il credente il credente cristiano il discepolo di Gesù Cristo non rigetta nulla della parola quindi noi non abbiamo rigettato la legge di Mosè ma bensì siccome la legge di Mosè conteneva delle ombre di cose che dovevano venire una volta venuta la realtà delle cose noi non guardiamo più alle ombre ci atteniamo alle cose reali che Gesù Cristo ha compiuto e ha spiegato lui direttamente e anche attraverso gli apostoli da lui costituiti quindi il cristiano non rigetta nulla però ad esempio per i giudei il cristianesimo è considerata una setta una setta cioè una divisione dal giudaismo una derivazione una uscita dal giudaismo in questo passaggio che abbiamo letto qui viene citato i sadducei perché anche i sadducei erano ritenuti una setta diversa ad esempio dalla setta dei farisei perché i sadducei avevano un certo credo che era diverso da quello dei farisei ed era addirittura anche totalmente diverso da quello che poi la parola insegnava quindi vedete la parola la parola setta quindi biblicamente indica qualcuno che si allontanava che si divideva da un punto di vista dottrinale da un punto di vista dottrinale o di condotta che si divideva da qualcosa che c'era già quindi è una una divisione però il cristianesimo se viene considerato come una divisione dal giudaismo il cristianesimo anche se chiamato setta non ha una connotazione negativa perché setta vuole dire una nuova via una nuova strada un nuovo orientamento un nuovo indirizzo però in quel caso il cristianesimo non ha anche se chiamato setta come nel senso si segue una nuova via guardando dal punto di vista del giudaismo il cristianesimo è un gruppo che comincia a seguire un'altra via ecco quest'altra via una via nuova questa divisione dal giudaismo non è negativa perché l'ha voluta il Signore nostro Gesù Cristo l'ha voluta il Dio quindi anche se il cristianesimo viene accusato di essere una setta che si è divisa dal giudaismo non è una connotazione così negativa guardandola dal punto di vista del giudaismo è la verità è una nuova via in effetti una nuova via che poi è la via la via la verità è la vita che è Gesù Cristo il cristianesimo si fonda sul Messia su Gesù Cristo sul Messia che i giudei ancora aspettano e che quando è venuto non hanno riconosciuto non lo hanno riconosciuto ma tutti quelli invece che lo hanno riconosciuto ecco che sono stati salvati e sono nati di nuovo sono stati rigenerati spiritualmente quindi vedete la parola setta ha anche questo significato di individuare un determinato gruppo particolare quindi non è così semplice uno lancia l'accusa di setta cioè deve riflettere bene in quale contesto la parola setta è stata scritta è stata lanciata contro contro determinate persone qui naturalmente la setta dei sadducei era una setta malvagia perché perché gli apostoli guarivano non è che facevano del male capite qui nel passo che abbiamo letto gli apostoli non facevano del male anzi cacciavano i demoni guarivano gli infermi e annunziavano l'Evangelo ma questi pieni di invidia i sadducei e anche il sommo sacerdote erano pieni di invidia quindi erano veramente malvagi e praticamente cercavano in tutti i modi di far tacere di far tacere queste voci questi gli apostoli che annunziavano la verità a tal punto che li fecero arrestare naturalmente poi il Signore li ha liberati il Signore li ha liberati però vedete come ci sono i malvagi quindi in ambito anche nostro religioso del cristianesimo se c'è un gruppo che annunzia e che cresce di numero che annunzia la verità che opera potenti miracoli praticamente fa sorgere sempre in altri gruppi un'invidia terribile che ti prenderà faranno di tutto questi per poterti arrestare per poterti far tacere per silenziarti per non farti annunziare determinate cose cose che loro non credono non vogliono credere e non vogliono accettare e queste cose accadono accadevano allora e accadono anche oggi accadono anche oggi non vogliono che tu annunzi cose nuove se queste cose nuove non sono confermate dalle sacre scritture certo allora va bene allora tu le devi annullare il rappimento segreto non c'è scritto nella parola allora chi lo annunzia ecco lui è nell'errore però uno che annunzia la predestinazione non è nell'errore perché la scrittura è piena è piena dell'insegnamento della predestinazione quindi quindi chi sbaglia che bisogna andare sempre ad esaminare quello che viene insegnato per poter quindi per poter accusare un gruppo nel senso negativo di setta dobbiamo andare a vedere cosa questo insegna siccome non facilmente si può vedere la condotta di una persona no perché noi leggiamo ascoltiamo le prediche su internet magari non ci conosciamo tutti non conosciamo anche tutti gli altri non li conosciamo però possiamo leggere o sentire cosa predicano in che cosa credono se noi vediamo che taluni credono in certe dottrine false in certe cose che non sono vere e alcune cose anche che sono molto malvagie oppure che predicano contro la santificazione quindi tu puoi peccare fare tutto quello che ti pare capite bene che queste persone sono sviate queste se fanno parte di un gruppo dove vengono insegnate tutte queste cose malvagie sbagliate questi sì che possono essere considerati una setta una divisione dal cristianesimo una divisione un allontanamento dalla parola di Dio che è pericolosa e dannosa quindi dobbiamo esaminare quello che viene insegnato io non posso vedere la condotta di tutti però noi sappiamo bene che non puoi il punto uno dei punti da considerare importanti è questo cioè uno non può predicare la verità e poi condursi condursi come il peggior scellerato del mondo capite perché l'albero buono fa dei frutti buoni l'albero cattivo fa dei frutti cattivi non ci può essere una mescolanza cioè l'albero che si conduce malamente può predicare perfettamente no non può essere perché l'albero cattivo fa i frutti cattivi i frutti non uno solo cattivo ma i frutti invece se noi guardiamo la predicazione di altri facciamo il giro al contrario adesso se quello insegna tutta la sana dottrina ma vuol dire che è guidato da Dio quindi anche nella condotta il Dio lo guiderà lo guarderà anche nella condotta capite quindi capire quando una persona insegna la sana dottrina ti fa capire molto di quella persona certo nessuno è perfetto degli errori li facciamo tutti però non può essere che uno insegna la sana dottrina e poi si conduce con le peggiori prostitute con i peggiori nelle peggiori nel modo peggiore che uno si può condurre perché la condotta è strettamente legata a quello che hai nel cuore e quindi che predichi anche quindi quando uno insegna la verità c'è da ben sperare che anche si conduca in un certo modo e soprattutto dobbiamo avere fede in Dio che se uno è guidato dallo Spirito Santo per annunziare tutta la verità sarà anche guidato nel mettere in pratica non dico che per forza devono essere tutti perfetti però però almeno non ci saranno in lui dei peccati così gravi da rischiare chissà che cosa quindi quindi è importante imparare ad esaminare quello che uno cioè tu impari a capire chi è una persona da quello che dice da quello che insegna perché se lo puoi anche conoscere di persona va bene va meglio però già dalla dottrina che uno insegna perché perché possiamo conoscere il cuore perché Gesù l'ha detto dall'abbondanza del cuore la bocca parla un albero cattivo non può fare frutti buoni un albero buono non può fare frutti cattivi e tra tutti questi frutti c'è anche quello che riguarda la predicazione della parola la predicazione della sana dottrina quando uno scrive o predica e predica la sana dottrina quasi certamente si conduce anche in un certo modo perché se è guidato da Dio è guidato anche quando quando si conduce ma ora passiamo a leggere un altro passaggio biblico abbiamo accennato qui abbiamo detto che c'è la setta dei sadducei e guardate quanto erano malvagi hanno fatto arrestare gli apostoli quindi la setta dei sadducei citata dalle scritture viene citata anche in maniera che erano invidiosi e quindi malvagi ma la scrittura cita anche che c'è la setta dei farisei una setta dei farisei qui andiamo a leggere il capitolo 15 sempre di atti degli apostoli dal versetto 5 qui avvenne c'era un po' di ci fu una conferenza a Gerusalemme il contesto è questo ci fu una conferenza a Gerusalemme perché c'erano di quelli che turbavano i gentili volevano spingere i gentili a giudaizzare c'era la questione che se un credente è nato di nuovo ha creduto in Gesù Cristo la questione era ma deve anche osservare la legge di Mosè cosa deve osservare della legge di Mosè ecco quindi si riunirono e tra le altre cose tra le altre cose stanno scritte queste parole al versetto leggiamo dal versetto 5 15 5 ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro d'osservare la legge di Mosè quindi cosa era avvenuto c'era una setta quella dei farisei che era una setta particolare giudaica e anche tra i farisei c'erano stati di quelli che si erano convertiti al cristianesimo che si erano convertiti a Gesù Cristo quindi qui sta chiamando alcuni della setta dei farisei quindi cosa era successo sì che avevano creduto questi farisei questi della setta dei farisei però vedete portavano avanti un concetto portavano avanti ancora qualcosa dalla loro vecchia vita dalla loro vecchia religione che non avevano ancora capito pienamente tutto ciò che riguardava la legge di Cristo sotto la grazia cosa volevano imporre questi provenienti dalla setta dei farisei che erano diventati credenti volevano imporre i gentili volevano imporre la circoncisione ai gentili e volevano imporre l'osservanza di tutta la legge di Mosè vedete quindi qui la scrittura ci presenta ci presenta non solo qui ma anche in altri punti la setta ci fa conoscere la setta dei farisei in una maniera particolare perché c'erano alcuni che si erano convertiti provenienti dalla setta dei farisei e che in questo caso che abbiamo letto spingevano verso cose che noi oggi sappiamo anche grazie a quello che accadde alla risposta dello Spirito Santo e degli apostoli e di tutta la Chiesa grazie a quella conferenza oggi possiamo avere abbiamo degli elementi per cui possiamo rispondere a quelli che vogliono farci giudaizzare però voglio farvi notare questo voglio farvi notare questo che ancora oggi ci sono certi che in mezzo alla Chiesa di Cristo sotto la grazia cercano di imporre l'osservanza di determinate cose della legge magari non ti impongono di circonciderti va bene però ti impongono di non mangiare cibi impuri ti impongono di osservare il sabato cercano di importi determinate cose che provengono dalla legge di Mosè che noi sappiamo che tutti i cibi sono diventati puri con Gesù Gesù fece un discorso e disse che non è quello che mangiamo che ci contamina ma quello che esce dal nostro cuore la malvagità che esce dal cuore dell'uomo è quello che lo contamina lo rende impuro non quello che mangiamo quindi uno che mangia carne di maiale non è più impuro non si contamina anche perché i cibi impuri riguardavano questo lo spiega in atti degli apostoli con una visione l'eterno che dà il Dio dà una visione a Pietro mentre pregava mentre pregava gli dà una visione e gli spiega che Dio aveva fatto tutti i cibi puri gli animali impuri erano divenuti puri perché questi animali impuri questa suddivisione tra animali puri e animali impuri era una figura che riguardava la divisione che c'era tra il popolo di Israele e i gentili che non erano il popolo che erano al di fuori del popolo di Israele ma in Cristo Gesù è avvenuto che dei due popoli il Dio ne ha fatto uno solo quindi non c'è più un popolo che è impuro ma sono tutti puri in Cristo Gesù sia i giudei sia il popolo di Israele e sia per quanto riguarda i gentili quindi considerato tutto questo e considerato anche che Gesù dicendo che non è un cibo che ci rende puri o impuri davanti a Dio ecco che quindi la scrittura dice nei Vangeli dice che così dicendo Gesù fece tutti i cibi puri quindi oggi se ci sono quelli che vengono a disturbare nella Chiesa dire che tu non puoi mangiare certi cibi oppure devi osservare il sabato ecco che è come se ci fossero ancora in mezzo a noi alcuni della setta dei farisei che vogliono imporre un determinato credo che però non lo possono confermare con le sacre scritture magari ci provano anche però guardando la somma della parola considerando la somma della parola non lo possono dimostrare che hanno ragione che certi cibi non si devono mangiare non lo possono dimostrare ma perché la somma della parola ci insegna che noi possiamo mangiare tutti i cibi perché tutti i cibi sono stati fatti puri però a noi ci interessa dal punto di vista della setta dal punto di vista qui la scrittura ha citato la parola setta per individuare i farisei che alcuni di questi farisei si erano convertiti al cristianesimo ma pure portavano alcune cose no si trascinavano con sé alcune cose che non erano buone che bisognava chiarire che dopo gli apostoli hanno in quella conferenza di Gerusalemme hanno chiarito e hanno detto che dalla legge di Mosè era giusto imporre le cose necessarie che erano che bisognava astenersi dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue dalle cose soffocate e dalla fornicazione quindi non si dovevano mangiare i cibi sacrificati agli idoli quello lo diceva la legge di Mosè ed è rimasto anche sotto la grazia non dovevano mangiare il sangue sotto la legge di Mosè e quello è rimasto anche per noi oggi sotto la grazia non dovevano mangiare carni soffocate cioè animali che venivano soffocati e non sgozzati cioè gli animali devono essere fatti morire facendo uscire loro il sangue non soffocandoli togliendogli l'aria praticamente per essere mangiati per essere mangiati quindi queste sono le cose che provenienti dalla legge di Mosè sono rimasti anche sotto la grazia e quello anche della fornicazione è chiaro che in più passi delle sacche scritture anche sul nuovo testamento c'è scritto che non si deve fornicare cioè non si devono avere rapporti fuori dal matrimonio non si devono avere rapporti carnali e questo è vietato sono cose dice qui al capitolo 15 è scritto che sono cose necessarie che i credenti sotto la grazia devono osservare quindi non c'è la circoncisione non c'è il mangiare cibi il divieto di mangiare cibi impuri non c'è l'osservanza del sabato non è non si è trascinata sotto sotto la grazia non si è diciamo non è stato trasportato sotto la grazia quindi quelli che oggi quelli che oggi praticamente vogliono imporre queste cose sono come come i sono come i i settari farisei che volevano all'epoca degli apostoli imporre queste cose al loro tempo ai gentili quindi vedete quindi è una devianza viene utilizzata anche qui per individuare un certo gruppo di persone che erano i farisei i farisei che hanno avuto comunque quelli anche se si erano convertiti in questo caso in questo passaggio che abbiamo letto mantenevano alcune tradizioni che mantenevano alcune cose della legge di Mosè che non avevano capito che sotto la grazia non dovevano osservare ma andando avanti ancora la parola setta viene utilizzata anche per individuare i cristiani cioè i cristiani inizialmente venivano chiamati quelli della setta dei nazarei cioè che cos'è che annunziavano i cristiani gli apostoli annunziavano la salvezza in Gesù Cristo di Nazareth Gesù di Nazareth quindi venivano definiti i nazarei cioè quelli che parlano di Gesù di Nazareth praticamente leggiamo al capitolo 24 sempre di Atti degli Apostoli leggiamo dal versetto 3 dal versetto 3 siccome in grazia tua qui il contesto è questo che si presentarono davanti a Felice i giudei per accusare Paolo che Paolo era ritenuto il capo della setta dei nazarei capite chi era il capo della setta dei nazarei era Paolo era ritenuto Paolo quindi questo vedete anche a quell'epoca si utilizzava la parola setta per individuare un determinato gruppo quindi non ha una connotazione così molto negativa mortale mortale indicare un gruppo con la parola setta però certo ha sempre una connotazione negativa anche per noi cristiani perché anche noi indichiamo con la parola setta quelli che non sono nella verità questo è importante noi con la parola setta indichiamo tutti quelli che si sono divisi che si sono allontanati dalla via maestra e dalla parola di Dio allora noi quelli li chiamiamo settari la chiamiamo setta se è un gruppo di persone che si riunisce perché però dobbiamo dimostrare per dire che sono una setta dobbiamo poter essere in grado di dimostrare che non credono non seguono la sana dottrina la dottrina che c'è la sana dottrina che è esposta nelle sacre scritture e questo è fondamentale quindi per poter chiamare un gruppo che è una setta dobbiamo dimostrarne la falsità dottrinale che si è allontanata dalla verità se non riusciamo a dimostrare questo e non possiamo chiamare setta un determinato gruppo evangelico capite quindi bisogna stare attenti ora vediamo come la parola setta viene utilizzata qui da Tertullo che era un oratore uno bravo a parlare che uno bravo a parlare che era stato incaricato dai giudei per convincere Felice delle accuse che muovevano contro l'Apostolo Paolo e contro tutti tutti quelli che facevano parte del cristianesimo di allora capitolo 24 dal versetto 3 siccome in grazia tua godiamo molta pace qui è Tertullo che parla siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione noi in tutto e per tutto lo riconosciamo o eccellentissimo Felice con ogni gratitudine ora per non trattenerti troppo a lungo ti prego che secondo la tua condiscendenza tu ascolti quel che abbiamo a dirti in breve abbiamo dunque trovato che questo uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei nazarei egli ha perfino tentato di profanare il tempio onde noi l'abbiamo preso e da lui esaminandolo potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi lo accusiamo i giudei si unirono anch'essi nelle accuse affermando che le cose stavano così vedete quindi questo tertullo accusò di diverse cose Paolo lo accusò di essere il capo della setta dei nazarei quindi vedete fratelli cosa ci fa capire questo questo ci tranquillizza perché perché i nostri avversari ci accusano cioè stabiliscono chi è il capo loro stessi perché ti devono dire che tu non stai seguendo la verità tu non stai seguendo Gesù Cristo tu non stai seguendo i comandamenti di Dio ma stai seguendo un uomo queste accuse le hanno già mosse in passato le hanno già lanciate anticamente anche contro Paolo dicendogli tu sei il capo cioè non è il Messia non è Gesù Cristo il capo della chiesa il capo dei nazarei ma è Paolo è questo perché volevano sminuire volevano non volevano non riconoscevano che il capo di questo nuovo movimento che era assorto cioè il cristianesimo che loro chiamavano dei nazarei che il capo vero era Gesù Cristo ma riconoscevano in Paolo come la persona quella più autoritaria più che si era messa in evidenza e quindi lo definirono il capo di questa setta e la stessa cosa avviene oggi oggi avviene la medesima cosa perché? perché perché anche oggi accusano dicono che voi non seguite ci accusano di questo voi non state seguendo Cristo Gesù Cristo non è il Messia non è il vostro capo Gesù ma il vostro capo è una determinata persona un uomo quindi voi non state seguendo Gesù Cristo ma queste sono le accuse le stesse accuse che un po' che lanciarono contro l'Apostolo Paolo ma le accuse se non vengono dimostrate le accuse se non vengono dimostrate sono false diventano calunnie e noi non seguiamo un uomo noi seguiamo Gesù Cristo infatti noi siamo di quelli che dicono sta scritto noi dobbiamo essere di quelli che quando rispondiamo esponiamo una dottrina noi diciamo sta scritto sono gli altri che ci rispondono quando tu gli dici sta scritto loro come ti rispondono ah questa cosa la devo chiedere al pastore la devo chiedere al pastore e mi dire a lui come stanno le cose quindi non credo non accettano quello che sta scritto nella parola ma vanno da un uomo quindi tra i due tra noi che diciamo che sta scritto nella parola di Dio e quelli che ci rispondono che devono chiedere al pastore a un uomo praticamente se quell'appasso biblico è verace oppure no chi è il settario chi è il settario chi dice sta scritto o quello che dice no devo chiedere a un uomo chi si affida alla parola totalmente o chi si affida a un uomo totalmente perché quelli che si affidano a un uomo totalmente non siamo noi quindi le accuse che muovono contro di noi in realtà si auto accusano perché sono loro che seguono il loro pastore il loro presidente le loro cose umane che le hanno addirittura costruite taluni si sono fatti i presidenti si sono fatti i tesorieri si sono fatti i consiglieri si sono fatti tutta un'organizzazione umana con dei regolamenti umani che seguono più di quanto seguono la Bibbia quindi qui ad esempio le assemblee di Dio in Italia sono costituite organizzate umanamente proprio come una piramide gerarchica dove c'è un presidente un capo un vice capo e tutto fino a scendere a piramide un'autorità costituita a piramide si loro ti dicono che non c'è nessuna nessuna gerarchia nel loro interno ma a parole ti possono dire quello che vogliono ma nella realtà dei fatti non è così perché nel momento in cui tu mi fai un presidente e tutti gli altri a scalare a piramide c'è una gerarchia non è che l'ultimo seduto nei banchi ha la stessa autorità la stessa capacità decisionale del presidente e quindi c'è una gerarchia capite la setta non siamo noi chi è che sfrutta i fratelli con i soldi chi è che che sfrutta le anime che le inganna che si è costituito in un certo modo per sfruttare di più per ingannare di più per prendere soldi dallo Stato e tante altre cose chi è non siamo noi la parola setta a noi non ci può essere addebitata noi non seguiamo un uomo e non siamo organizzati per sfruttare i fratelli non siamo assolutamente strutturati in maniera gerarchica noi vogliamo l'ordine però questo non vuol dire che uno fa quello che gli piace e no perché le scritture ci insegnano che ci impongono di insegnare esortare anche alla santificazione quindi non può non può anche se non abbiamo una linea diretta per condurre la vita di ogni singolo credente che non ci è dato a noi di fare questo però nel momento in cui veniamo a sapere che un fratello è disordinato e si sta conducendo male e allora dobbiamo porre un limite dobbiamo esortarlo a smetterla di comportarsi male o di credere in una eresia perché se non lo fa poi dopo non potrà stare in mezzo a noi almeno questo noi non è che creiamo altre situazioni noi non vogliamo che rimanga in mezzo ai santi per non contaminarli e per non dare cattiva testimonianza tutto qua leggiamo ancora su questa nuova via quando Paolo dopo che è stato arrestato e poi è stato portato a Roma a Roma i giudei che erano a Roma hanno avuto contatti con lui con l'Apostolo Paolo hanno avuto contatti cioè hanno parlato con lui si sono riuniti per andare a parlare con lui e guardate cosa è stato cosa è stato detto perché si vollero incontrare con l'Apostolo Paolo questi giudei che erano a Roma e leggiamo capitolo 28 sempre di Atti degli Apostoli leggiamo allora vediamo dal versetto capitolo 28 leggiamo dal versetto 20 per questa ragione dunque vi ho chiamati Paolo che parla a questi giudei per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi perché egli è a causa della speranza di Israele che io sono stretto da questa catena ma essi gli dissero noi non abbiamo ricevuto lettere dalla giudea intorno a te né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o dir male di te ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione vedete cosa è scritto cosa gli dissero a Paolo Paolo li ha voluti incontrare per difendersi anche con loro e questi cosa gli dissero vabbè non abbiamo ricevuto lettere non abbiamo accuse contro di te però una cosa la sapevano che dicono quant'è a cotesta setta vedete qui sta parlando del cristianesimo i giudei comunque le notizie sul cristianesimo erano giunte e questi giudei dissero ma quant'è a cotesta setta cioè a cotesto gruppo ci è noto questo gruppo che era la setta il cristianesimo no la prima abbiamo visto che la chiamavano la setta dei nazarei quant'è a cotesto gruppo a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione e sì perché il mondo giace nel maligno anche i giudei non erano nella verità giacevano nel maligno quelli che erano sinceri sicuramente avevano creduto credevano poi quando gli veniva annunziato l'evangelo credevano credevano nel messia ma quelli che non credevano cominciavano a odiare a opporsi con tutte le loro forze a questa nuova questa nuova via a questa che loro chiamavano setta a questo gruppo che si divideva dal giudaismo capite quindi vedete non è che la parola setta in questo caso avesse una un significato molto negativo ma era utilizzato qui solamente per indicare un gruppo capite ecco perché se noi chiamiamo qualche denominatore qualcuno settario o un gruppo che è una setta e lo dobbiamo dimostrare è la stessa cosa loro devono dimostrarlo con noi che siamo nella menzogna che non siamo nella verità prima lo devono dimostrare poi ci possono chiamare in senso negativo o molto negativo ci possono chiamare setta qui ci fanno sapere praticamente che questi giudei romani che erano a Roma che la setta dei cristiani questa nuova via la setta dei nazarei e incontrava opposizione dappertutto ma perché perché il mondo il mondo odia i cristiani quelli veri li odia gli fa guerra in tutti i modi possibili capite e quindi giungeva giungeva alle orecchie di tutti giungeva alle orecchie di tutti che praticamente questa nuova via che si stava questa nuova religione questo nuovo gruppo religioso che si stava spargendo praticamente incontrava opposizione dappertutto ma così era ma oggi fratelli e sorelle non state notando la medesima cosa anche noi che annunziamo determinate dottrine incontriamo abbiamo incontrato dall'inizio e sempre di più incontriamo opposizione dappertutto ma non perché perché annunziamo la verità noi annunziamo quelle cose che molti avevano smesso di annunziare o non hanno mai annunziato e quindi incontriamo anche noi opposizione ma perché noi vogliamo il nostro desiderio il nostro sforzo è quello di annunziare tutta la parola di Dio tutto il consiglio di Dio senza tralasciare nulla noi siamo stati noi a tirare fuori di nuovo il fatto che il Dio non solo è amore ma è anche giusto manda i suoi giudizi sugli uomini li fa anche morire i peccatori e sì i disubbidienti e i peccatori perché così è scritto e allora incontriamo opposizione da parte di quelli che insegnano solamente che Dio è buono e non fa del male a nessuno cioè non provoca dolore non castiga nessuno poi abbiamo cominciato a annunziare anche il fatto di non giudicare che il non giudicare era una falsa dottrina anzi dobbiamo siamo chiamati tutti a giudicare a esaminare ogni cosa non basandoci sull'apparenza ma sulla realtà dei fatti e anche lì tutti ci chiamano ah voi giudicate vi sentite più santi degli altri no noi non ci sentiamo più santi degli altri noi però leggiamo determinate cose nelle scritture e quelle annunziamo perché il Signore che ci ha salvati ci ha chiamati ad annunziare tutto il consiglio di Dio senza trattenerci niente per noi senza badare ad annunziare solo quello che piace all'ascoltatore qui non bisogna predicare solo quello che piace all'ascoltatore ma bisogna predicare tutta la somma della parola quello che piace e anche quello che non piace perché che Dio sia misericordioso e amore lo insegniamo anche noi lo predichiamo anche noi però non è solo amore Dio non è solo amore Dio è amore ma è anche giusto santo e ha comandato siate santi come io sono santo e allora cosa succede a quei figlioli suoi che non si santificano e beh Dio li castiga perché così è scritto li castiga ma per il loro bene per il loro bene perché vuole attraverso il castigo risvegliarli e farli tornare a lui capite non è per il loro male che Dio li castiga certo il castigo provoca dolore sofferenza e beh ci sono castigli a volte anche molto duri però così stanno le cose bisogna annunziare tutto il consiglio quindi noi abbiamo ad esempio iniziato ad annunziare anche la predestinazione e si sono gli arminiani quelli quelli che amano il libero arbitrio si sono scagliati tutti contro di noi poi abbiamo annunziamo anche la perdita della salvezza e tutti i calvinisti si sono scagliati contro di noi poi stiamo annunziando tante altre cose il cestino delle offerte non deve passare non deve chiedere soldi per costruire i locali di culto non puoi vivere nel lusso e tutte queste cose qua anzi bisogna raccogliere fare delle raccolte per dare ai poveri non per costruire i locali di culto quindi immaginatevi voi chi ha basato tutta la sua organizzazione nel costruire i locali di culto veniamo noi che diciamo noi i locali di culto non li devi costruire ma devi dare i soldi ai poveri gli stiamo rovinando tutto tutto il giochino tutto il piano gli stiamo rovinando e quindi incontriamo opposizione vedete non è che il problema siamo noi che vogliamo fare guerra a tutti noi annunziando la somma della parola il tutto il consiglio di Dio automaticamente ci troviamo tanti nemici chi da una parte e chi dall'altra ci troviamo tanti nemici e noi combattiamo non è che ci tiriamo indietro combattiamo con le armi spirituali naturalmente non è che non facciamo del male a nessuno non torciamo un cappello a nessuno noi combattiamo spiritualmente in preghiera e annunziando tutto il consiglio di Dio poi il Signore farà lui chi dovrà capire chi dovrà intendere intenderà chi non deve intendere rimarrà dove deve rimanere dove il Signore ha stabilito ora andiamo a leggere in Galati dove sulla parola setta sulla parola setta si dì l'Apostolo Paolo dice che cosa una cosa importante al capitolo 5 di Galati al versetto leggiamo dal versetto 19 qui fa un elenco delle opere della carne sì perché essere settari qui in senso negativo cioè quando uno si allontana dalla sana dottrina dalla verità per creare una propria setta per per crearsi una propria religione un proprio credo come gli piace a lui ecco in questo caso cosa dice l'Apostolo Paolo chi fa così è un uomo carnale questo settarismo questo dividersi dai fratelli e dalla verità allontanarsi dalla sana dottrina è un settarismo negativo perché proviene dalla carne è una divisione che proviene dalla carne quindi è una cosa negativa e lo dice lo scrive in questa maniera l'Apostolo Paolo or le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione impurità dissolutezza idolatria stregoneria inimicizie discordia gelosia ire contese divisioni sette invidie ubriachezze gozzoviglie e altre simili cose circa le quali io vi prevengo come anche vi ho già prevenuti che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio e qui vedete dice anche che fine fanno i settari non erediteranno il regno di Dio i settari quelli che si dividono dai fratelli per seguire una via che non è la via maestra attenzione che non è una via biblica che non è la via della sana dottrina quelli se non si ravvedono e non tornano nella verità praticamente qui è scritto che non erediteranno il regno di Dio anche se sono nati di nuovo vedete qui si innesca l'altro concetto che non piace a molti a cui tanti si oppongono cioè che anche un credente può perdere la salvezza non entra nel regno di Dio praticamente alla fine dei suoi giorni perché anche la setta il settarismo è un'opera della carne quando uno si divide dagli altri fratelli si divide dagli altri fratelli si divide soprattutto come dottrina non solo si divide dalle persone perché uno può anche riconoscere ho un problema con un fratello riconosco la stessa dottrina ma non ci possiamo frequentare più facciamo un caso come Paolo e Barnaba ebbero ebbero un'aspra discussione per una cosa che riguardava Marco se doveva andare con loro a predicare in missione oppure no non riguardava la dottrina ci fu la separazione tra Paolo e Barnaba tra gli apostoli Paolo e Barnaba però non riguardava la sana dottrina quindi è vero che ci fu una divisione però non riguardava la dottrina quindi sicuramente qualcuno lì ha sbagliato però non erano degli errori che ti menavano in perdizione capite era una divisione soltanto dalle persone e non dottrinale quello che che è più pericoloso per la vita spirituale di un credente è dividersi per motivi diciamo di dottrina cioè allontanarsi dalla sana dottrina se uno si divide crea una setta diventa settario per la dottrina allora allora lì rischia veramente di non entrare nel regno dei cieli quindi fate attenzione perché qui non si tratta di allontanarsi da una persona perché uno qualcuno da noi si può anche allontanare non è che non è che siamo noi che possiamo portare la salvezza però attenzione perché se si allontana da noi e si allontana anche dalla sana dottrina allora lui rischia non perché si è allontanato da noi ma per la sana dottrina uno può allontanarsi e dire no io mantengo la sana dottrina perché è quella la dottrina che leggo nelle scritture allora non ci sono grossi problemi c'è solo da spiegare perché uno si è allontanato da certe persone ma se non si allontana dalla dottrina va bene comunque non rischia di rimanere fuori dal regno dei cieli ora volevo farvi qualche esempio di che cosa succede di che cosa succede praticamente degli esempi pratici per quanto riguarda questa divisione questo allontanamento tra fratelli che viene condannato comunque dalle scritture il primo esempio lo leggiamo con i corinzi dobbiamo andare a leggere nella prima epistola ai corinzi al capitolo 11 diciamo che il primo caso l'abbiamo già letto prima per non ripeterlo al capitolo 15 abbiamo visto quei farisei quelli convertiti dalla setta dei farisei che volevano vedete la devianza la divisione il settarismo che si che era quello di voler imporre a tutti i gentili anche se facessero circoncidere e osservare tutta la legge di Mosè quello non era non era dottrinalmente corretto quindi in quel caso era una questi si dividevano dalla verità e avevano un pensiero una dottrina che era lontana dalla verità quindi facevano parte a sé stante praticamente e dovevano ravvedersi di questi pensieri dovevano ravvedersi e entrare rientrare in loro stessi e credere nella verità e quello del primo caso l'abbiamo già letto in precedenza adesso leggiamo cosa cosa dice la scrittura riguardo delle divisioni dei corinzi che c'erano in mezzo a loro leggiamo dal versetto capitolo 11 dal versetto 17 mentre vi do queste istruzioni io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio poiché prima di tutto sento che quando vi adunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni ed in parte lo credo perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette affinché quelli che sono approvati siano manifestati siano manifesti fra voi praticamente qui cosa è successo i corinzi c'erano i corinzi ad esempio che dicevano io sono di paolo io sono di pietro io sono di apollo e c'erano anche quelli che dicevano no io sono di gesù cristo e come diciamo noi oggi di chi siamo noi oggi di paolo di pietro sì noi consideriamo le dottrine di pietro le dottrine che ha insegnato paolo che poi sono le dottrine di gesù cristo quindi di chi siamo noi di gesù cristo se uno viene a dire no io sono paolino io sono pietrino io seguo questo seguo quest'altro siamo in presenza di qualcosa che ha la forma di settarismo cioè si identificano non in colui non identificano il reale capo come deve essere cioè gesù cristo ma identificano una una persona umana il loro capo ad esempio i cattolici riconoscono come loro capo il papa per farvi un esempio per comprendere chiaramente cosa vuol dire noi diciamo che il nostro capo è cristo i cattolici dicono che il loro capo è il papa ed è un uomo che muore il nostro gesù cristo non muore più è morto sì ma è risuscitato dai morti e noi adesso è vivente invece i cattolici dicono il loro capo è il papa e quindi vedete questo non va bene però queste cose avvengono non solo qui è troppo evidente perché i cattolici non sono cristiani sono mariani idolatri non sono nella verità non sono nati di nuovo non sono salvati ma queste cose queste divisioni questo settarismo lo possiamo incontrare anche dentro le chiese va bene anche dentro le chiese evangeliche anche dentro le chiese dei santi infatti in corinto c'erano questi credenti che dicevano io sono di questo io sono di quest'altro invece la verità dei fatti era che era che uno doveva dire di essere di Gesù Cristo però bisogna avere una certa conoscenza spirituale una certa maturità spirituale conoscenza quindi del Signore nostro Gesù Cristo della sua volontà e di quello che è scritto nella parola se le persone non studiano quanto è scritto nella parola e poi dopo sicuramente c'è più spazio per poter sbagliare e qui nel passo che abbiamo letto c'è scritto il motivo per cui Dio permette che ci siano queste divisioni queste sette affinché quelli che sono approvati siano manifestati cioè se uno si allontana e si divide è Dio che sta manifestando a volte in mezzo a noi cosa è successo è successo che ci sono stati dei problemi abbiamo dovuto affrontare il problema dal punto di vista disciplinare quindi se mantenerlo o no in mezzo a noi se si pentiva o no di quello che aveva sbagliato e se si poteva mantenere in mezzo a noi cosa è successo si sono creati dei partiti chi era a favore di questi e chi era contro e poi alla fine abbiamo dovuto togliere di mezzo dalla comunione fraterna più persone ma doveva succedere perché quelli che sono approvati da Dio devono manifestarsi quelli che invece non vogliono non sono approvati da Dio alla fine se ne devono andare si devono staccare da noi si devono separare dalla verità dalla chiesa dei santi capite quindi vedete ci devono essere anche le sette le divisioni purtroppo ci devono essere perché queste manifesteranno quelli che sono approvati da Dio cioè quelli che Dio approva cioè quelli con cui Dio è d'accordo e quelli che invece con cui Dio non è d'accordo perché se ci sono due parti contrarie solo una parte avrà ragione non possono avere ragione tutti e due quindi se due parti si contrastano si contraddicono solo una avrà ragione non possono avere ragione tutte e due e quindi Dio vedete anche con le divisioni con le sette che si vengono a creare c'è una manifestazione di coloro che invece rimangono fermi nella verità e nella sana dottrina un altro cattivo esempio di qualcuno che si conduce in maniera settaria si chiude e non si apre agli altri perché settarismo vuol dire proprio essere intolleranti e chiudersi non ascoltare gli altri che parlano perché noi annunziamo la verità tutto il consiglio di Dio anche a quelli che non credono con la speranza che Dio gli dia il ravvedimento e gli conceda di ravvedersi e tornare in loro stessi per poter riconoscere la verità questo anche noi facciamo ma se uno si chiude diventa intollerante cioè non vuole ascoltare quindi chiude le orecchie quello che noi ad esempio non dobbiamo fare se un fratello ci esorta ci dà un insegnamento ci riprende noi non dobbiamo permetterci assolutamente di chiudere le nostre orecchie e di non ascoltare no noi dobbiamo ascoltare attentamente poi se non siamo d'accordo manifesteremo perché non lo siamo perché talvolta chi ci riprende potrebbe anche essere nell'errore perché non sa determinate cose non sa tutto allora si chiarisce tutto quindi serve comunque a chiarire tutto ma se noi chiudiamo le orecchie non vogliamo sentire niente di diverso di quello che ci piace e no allora si sbaglia si sbaglia perché ci si sta isolando e ci si sta comportando in maniera settaria quindi non bisogna essere intolleranti e non bisogna chiudere le orecchie ora uno di quelli che era intollerante e si comportava in maniera malvagia era la scrittura lo chiama Diotrefe e lo leggiamo nella lo leggiamo nella terza epistola di Giovanni e dice così leggiamo dal versetto 5 terza epistola di Giovanni di letto tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere alcunché dai pagani noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità ho scritto qualcosa alla chiesa ma Diotrefe che cerca d'avere il primato fra loro non ci riceve perciò se vengo io ricorderò le opere che fa cianciando contro di noi con male parole e non contento di questo non solo non riceve egli stesso i fratelli ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della chiesa diletto non imitare il male ma il bene vedete c'era questo Diotrefe Giovanni ha scritto a Diotrefe c'erano dei santi praticamente che partivano da una città si muovevano e andavano in altre cosa facevano magari scrivevano pure una lettera diceva ricevete questi fratelli che vengono da noi affinché li sostegniate e possano continuare il loro cammino e comunque facciano la loro opera per il quale il Signore magari li ha mandati ecco Diotrefe non riceveva nulla di quello che veniva da fuori perché noi non dobbiamo solo pensare a una chiesa locale o a un gruppo chiuso perché se viene da fuori uno dei santi salvati dal Signore nostro Gesù Cristo che non è con noi ma è comunque mandato da Dio e noi dobbiamo fare attenzione perché noi dobbiamo accogliere i santi quelli veri però non i bugiardi non quelli falsi ma quelli veri noi dobbiamo essere cooperatori con la verità non importa se fa parte del nostro gruppo o no certo è chiaro che la prudenza deve esserci sempre non è il primo che viene bisogna sempre essere prudenti però la possibilità di dover aiutare o consolare o comunque stare insieme o cooperare con alcuni fratelli ci può essere anche se non sono del nostro gruppo per dire anche se non sono della nostra comunità se è provato in qualche maniera che siano dei santi che temono il Dio che sono mandati da Dio e noi dobbiamo cooperare non dobbiamo fare come Diotrefe che chiudeva lui la porta di casa sua ma voleva che anche tutti i fratelli chiudessero le porte e non ricevessero quelli che venivano da Giovanni o che comunque che comunque passavano da lì perché il Dio li aveva mandati e volevano servire il Signore si erano chiusi non ricevevano nessuno da fuori questo Diotrefe chi lo voleva fare perché sicuramente lo Spirito Santo li spingeva a doverli diciamo accogliere in qualche maniera li li cacciava fuori dalla Chiesa impediva loro di fare di fare del bene a quelli che erano fuori da quella Chiesa noi invece dobbiamo fare del bene a tutti i Santi capite il concetto è questo che il bene non si fa solo a quelli che tu hai vicino tra i Santi ma a tutti quelli che il Signore ti fa incontrare anche se sono lontani per dire perché la Chiesa di Dio è universale non è che la Chiesa di Dio è solo qua è solo in mezzo a noi no la Chiesa di Dio è universale ci sono tanti Santi che noi non conosciamo che servono il Dio e se Dio li dovesse mandare da noi noi li dobbiamo accogliere naturalmente sempre con prudenza perché purtroppo molti sfruttano questa cosa e sono dei bugiardi dei ladri che vengono solo per sfruttare la situazione però questo non esclude che biblicamente dottrinalmente le cose stiano così bisogna non bisogna chiudersi non bisogna io ho il mio gruppo tutto è chiuso non voglio nessuno che venga da fuori è tutto a posto capite no no perché noi dobbiamo essere sempre un gruppo aperto a qualsiasi aperto ad ascoltare ad accogliere tutti quelli che dicono di appartenere a Cristo però non non così in maniera sproveduta ma sempre con prudenza provando gli spiriti vedendo se questi sono da Dio oppure no però vedete Diotrefe è un altro di quegli esempi di comportamento settario di chiusura nei confronti degli altri fratelli e naturalmente i settari vedete non solo sono settari che si chiudono agli altri all'esterno ma anche sono malvagi perché qui dice cianciando contro di noi con male parole perché non solo non solo non li accoglieva questi fratelli non voleva che fossero accolti dagli altri ma parlava male di queste persone capite cianciando con male parole ed erano anche contro Giovanni e parlava male questo Diotrefe anche contro Giovanni quindi bisogna bisogna fare attenzione bisogna vedete anche qui questa è una forma una forma di comportamento settario che i credenti non devono non devono avere cioè ascoltare tutti sì però ritenere il bene non con tutti è vero possiamo camminare e collaborare però se con uno possiamo collaborare non importa da dove viene dobbiamo se riteniamo se il Signore ci conferma che sono da Dio dobbiamo cooperare dobbiamo cooperare almeno voglio dire non contrastarli ecco e questa era un'altra forma per quanto riguarda una forma con cui si manifesta uno spirito settario che è un'opera della carne badate perché Diotrefe voleva avere il primato cioè nessuno doveva intaccare la sua autorità là dentro e doveva essere lui il più importante il principale ecco non deve essere così perché se arrivava un apostolo in quella comunità l'apostolo poteva dare direttive perché era mandato da Dio ecco perché non perché aveva piacere di scombinare tutto ma gli apostoli hanno una maggiore autorità più degli altri ministeri e quindi se ricevevano un ordine da Dio di portare un certo una certa cosa tutti devono ascoltare è chiaro che bisogna provarli perché non tutti gli apostoli non tutti quelli che dicono di essere apostoli in realtà lo sono anzi oggi devo dire molti si fanno chiamare apostoli ma non lo sono ma proprio minimamente anzi facciamo fatica a riconoscerli anche come credenti figuriamoci come apostoli e voglio concludere con un passaggio con un passaggio quando incontriamo un settario come ci dobbiamo comportare con i comportamenti settari con i ragionamenti settari e la scrittura ci dice anche questo quando incontriamo qualcuno che si comporta in maniera settaria dobbiamo fare come ci dice qui la scrittura qui dice Paolo scrive a Tito queste parole capitolo 3 al versetto 10 Paolo scrive tante cose a Tito che deve mettere in pratica tra le cose che Tito doveva mettere in pratica c'era anche questo e gli dice gli scrive queste parole l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione schivalo sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca condannandosi da sé vedete qui la parola settario che si allontana dalla verità qui assume una connotazione molto molto peggiore pericolosa e addirittura che va a finire male va a finire all'inferno perché si condanna da sé è pervertito è pecca se non si ravvede attenzione se non si ravvede qui come ci dobbiamo quindi noi credenti come bisogna comportarsi con le persone settari c'è scritto dopo una prima cioè quelli che si allontanano dalla sana dottrina e creano una loro convinzione un loro gruppo come ci dobbiamo comportare con loro qui dice dopo una prima e una seconda ammonizione schivalo cioè bisogna ammonirlo bisogna spiegargli quello che sta sbagliando glielo dobbiamo spiegare una volta glielo dobbiamo spiegare due volte lo dobbiamo ammonire se veramente uno o due volte massimo e poi c'è vedete è un ordine schivalo schivalo cosa vuol dire vuol dire che ti devi allontanare come se fosse un pericolo una cosa pericolosissima e dannosa questo vuol dire usa questa parola Paolo per far capire a Tito che da una persona settaria deve proprio scansarsi se ne deve allontanare perché è pericoloso perché è dannoso stare vicino con i settari con quelli che non si amalgamano con la chiesa nella dottrina ma quelli che tengono sempre una loro propria dottrina anche se si trovano in mezzo agli altri ecco questi settari che hanno una propria derivazione dottrinale diversa dalla verità è chiaro perché se noi ci troviamo in una comunità dove si insegnano molte false dottrine e noi conosciamo la vera ci dobbiamo allontanare noi perché i settari sono loro cioè quelli che hanno deviato dalla verità sono loro capite però qui pone il caso in cui pone il caso in cui c'è qualcuno che devia dalla verità allora bisogna schivarlo e lo deve fare tutta la chiesa cioè se un pastore un anziano uno responsabile dice fratelli quello è pericoloso perché crede in queste dottrine lo dobbiamo lo dobbiamo allontanare dal mezzo di noi lo devono fare tutti all'imente chiedono più maggiori spiegazioni chiedono altre cose ma alla fine alla fine devono 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 agire tutta la comunità di pari consentimento per allontanare questa persona che è pericolosa nella dottrina o nella condotta è pericolosa e dannosa se rimane in mezzo alla chiesa quindi questo è quello che Dio ha ordinato come ci si deve comportare con i fratelli che si conducono in maniera settaria se si chiudono in una dottrina e non vogliono ascoltare la sana dottrina allora bisogna munirli due o tre volte massimo e poi vanno mandati via o bisogna comunque evitarli evitarli e non avere nessun contatto perché chi avrà contatto con questi subirà subirà dei danni subisce dei danni è sicuro questo non puoi bere del veleno e non subire danni se non è il Signore che ti libera però se uno beve del veleno volontariamente per tentare Dio il veleno poi lo uccide non è che lo lascia così com'era e questo fratelli e sorelle era il messaggio sulla parola setta di cui molti molti hanno in bocca questa parola contro anche contro di noi ma senza conoscerne i significati e senza conoscere neanche dove può trovare alcune spiegazioni della parola setta nelle sacre scritture quindi quando ci accuseranno di essere una setta devono dobbiamo chiedere devono loro gli accusatori dimostrare dove ci siamo allontanati dalla sana dottrina da dove ci siamo allontanati dalla verità e dove che noi stiamo seguendo un uomo e non Gesù Cristo capite se ci accusano devono dimostrare altrimenti sono solo delle accuse gratuite non provate sono delle calunnie e Dio punirà severamente i calunniatori a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén